Ogni volta rinasce l'Aquila si rinnova il primo giubileo della storia con la perdonanza celestiniana numero 727. L'ultimo atto prima dell'apertura ufficiale con l'arrivo del fuoco del morrone da Sulmona all'Aquila con l'accensione del tripo del 23 agosto è stato il passaggio di consegne tra i personaggi principali del corteo storico della bolla del 28 agosto dello scorso anno con quelli di quest'anno. La perdonanza è una delle feste più longevi al mondo ha resistito al tempo e al progresso dal dicembre del 2019 l'UNESCO la consacrata patrimonio immateriale dell'umanità. Sindaco il giubileo più antico della storia il primo che si rinnova perdonanza numero 727 passaggio di consegne tra i personaggi più importanti del corteo che lei ha voluto ribadire non è una sfilata la perdonanza è altro la perdonanza sono i valori che incarna fratellanza solidarietà edizione 727 che ormai sta entrando nel vivo. Sì la perdonanza è tutto l'anno e ogni anno si rinnova e si rinnova anche attraverso momenti come questo in cui i protagonisti del corteo di un anno passano idealmente astuccio, ramo, e cuscino e croce ai loro successori è un modo per segnare la continuità di una festa che non conosce limiti temporali non conosce limiti territoriali è il messaggio di celestino universale di pace di fratellanza di riconciliazione la capacità del perdono come sentimento che rinsalda i valori e legami comunitari e poi nella scelta di questi ragazzi che rappresentano uno spaccato della nostra migliore gioventù di quella che si impegna per gli altri di quella che si impegna nel lavoro di quella che si impegna nella cultura nell'arte nella creatività di quelli che si impegnano nello studio e di quelli che si impegnano nella formazione e in questo modo noi abbracciamo soprattutto i tantissimi ragazzi le tantissime ragazze che soffrono il tempo della pandemia e abbracciamo le loro famiglie e siamo grati a chi ogni giorno si batte per la loro formazione per la loro crescita che poi è il futuro dell'Aquila la perdonanza è l'aspetto religioso ma c'è anche il profano sacro e profano che si uniscono già l'anno scorso è stata una scommessa possiamo dire così mentre in Italia si annullavano eventi voi non avete voluto rinunciarci tutto è andato bene e anche quella è stata un'altra rinascita dopo il terremoto quella è stata l'assunzione completa di consapevolezza che l'Aquila sa che significa il rischio che l'Aquila sa che significano i comportamenti errati che l'Aquila sa rispettare le regole che l'Aquila sa essere rigorosa e così come abbiamo fatto nell'edizione dello scorso anno stiamo facendo anche quest'anno non si deroga a nulla non si trascura nulla ci si può divertire si può fare il corteo rispettando puntualmente le disposizioni, le norme prevenendo il contagio Massimo Lesi del Comitato Perdonanza delegato per conto del Comune ai rapporti con l'UNESCO la perdonanza che si freggia di questo riconoscimento e tutti i significati, tutto ruota attorno a questo che poi è il significato più puro più vero della perdonanza, tante iniziative, tante cose certo il Covid limita un po' i pellegrini, limita tante iniziative però insomma la perdonanza ha assunto un valore più grande La perdonanza ormai è patrimonio culturale e materiale dell'umanità secondo il riconoscimento della lista rappresentativa alla quale è stata iscritta dall'UNESCO siamo ormai un'organizzazione sotto tutela possiamo dire anche in una condizione futura speriamo anche di salvaguardia cioè un impianto che effettivamente fa parte delle prassi riconosciute a livello internazionale la caratteristica resta quella che l'insieme delle celebrazioni della festa della perdonanza cioè tutto ciò che ruota intorno al giubileo aquilano sono state oggetto di riconoscimento e quindi sono patrimonio in quanto rappresentano l'idea della comunità di rivivere da 727 anni ormai questo momento e questa è la resilienza della comunità aquilana che vale per il mondo Marianna Capulli, la dama della bolla, un grande riconoscimento, un onore il sindaco lo ha sottolineato anche nelle sue parole non è una sfilata ma voi portate i valori della perdonanza Sì, il valore principale di questa perdonanza è quello della formazione come città che riesce a riscoprire se stessa e a far riscoprire ogni singolo individuo grazie a tutte le opportunità che offre in termini proprio di formazione Sicuramente è per me un grande onore rappresentare tutto il mondo della formazione che ripeto rappresenta a tutto tondo dagli insegnanti ai collaboratori scolastici all'apparato amministrativo, dirigenziale, agli educatori quindi è per me davvero un grande simbolo questo perché l'Aquila ha un'eredità importante che sicuramente tutti i giovani uomini, i futuri uomini e le future donne che sono in formazione adesso che all'Aquila continueranno a portare avanti perché abbiamo una storia bella, importante che deve continuare nonostante le difficoltà Lei è un'insegnante di primaria l'essere qui rappresenta anche la vostra resistenza in un anno durissimo quello del Covid in cui la scuola c'è stata avete fatto tantissimi sacrifici è un po' una rinascita, una liberazione, sfilare, tra virgolette in questo corteo, incarnare questi sentimenti di cui lei parlava Sì, la scuola c'è sempre stata sempre ci sarà nonostante le difficoltà c'è stata perché un po' tutti ci siamo fatti comunità educante non solo nei insegnanti ma anche i genitori il mondo fantastico dei nonni ci siamo tutti arrangiati per portare avanti una formazione anche a distanza Sì, sfilare è una rivincita e soprattutto è anche un grande in bocca al lupo per l'anno che verrà che potrebbe presentare qualche difficoltà ma ripeto, insieme lo affronteremo Federico Santilli è il Giovin Signore ecco, la scelta quest'anno è stata puntata un po' sulla formazione lei si è appena laureato in medicina sappiamo tutto quello che è stato il Covid e che ancora è che effetto fa oggi esserci? Essere qui a rappresentare appunto la mia città nelle vesti anche di medico cioè che è il mio sogno è sempre stato il mio sogno fin da bambino è un'emozione incredibile, unica anche perché sono innamorato sia della mia professione sia innamorato della mia città da sempre e sono davvero felice di poter rappresentare appunto la mia città in queste vesti Per un ragazzo della tua età appena laureato partecipare alla perdonanza ma soprattutto saper di rappresentare poi anche una categoria che sappiamo quello che ha dato in tempi di Covid e non solo porta un po' di emozione, di riflessione sì 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 assolutamente oggi ho sentito ancora di più l'emozione, l'ansia, anche un po' lo stress indossando queste vesti perché è in questo momento che capisci di essere davvero uno dei figuranti della perdonanza e inoltre visto che da tre anni appunto cercano un tema per appunto la figura dei figuranti ciò mette ancora più emozione nel senso che sono comunque anche un medico e sono molto felice Martina Ciccone, Dama della Croce, primissima volta che effetto fa esserci? Sono molto emozionata, ho sempre vissuto la perdonanza da fuori sempre visto i tre figuranti sfilare appunto dall'esterno e esserci adesso ancora non mi sembra vero in realtà devo ancora realizzare ma è un onore per me veramente Tu sei una studentessa al primo anno di medicina, anche una giovane musicista ecco la scelta di quest'anno è andata sulla formazione su persone che comunque medici, insegnanti, una giovane studentessa che effetto fa a incarnare anche questi valori, questi sentimenti? Per me è molto importante, diciamo che la musica è sempre stata parte della mia vita da quando sono piccola e vedere che l'Aquila è una città che promuove appunto la musica, il conservatorio mi rende comunque orgogliosa della città e anche l'università comunque nonostante tutte le difficoltà che abbia vissuto quest'anno sempre comunque mi ha dato molti stimoli e mi ha fatto crescere e mi sento comunque cambiata grazie a loro Sacro e profano che si uniscono con la perdonanza che oltre agli appuntamenti religiosi anche spettacoli di musica e cultura sul palco sia del Teatro del Perdono a Colle Maggio che nella scalinata di San Bernardino ideati dal maestro Leonardo De Amicis ormai da anni scritti e cuciti per l'Aquila e quindi spettacoli unici Siamo con il maestro Leonardo De Amicis al suo quarto anno di direzione artistica della perdonanza celestiniana che è molto di più sacro e profano che si incontrano però anche negli spettacoli c'è di più non è solo una canzone, non è solo musica, è arte e cultura anche quest'anno spettacoli cusciti per l'Aquila e soprattutto lei mette al centro ancora una volta il racconto tantissimi artisti, tantissimi big in un cartellone tra virgolette chiamiamolo così che accontenta tutti Sì, degli spettacoli il racconto e il cuore con la musica veicoliamo delle idee, dei racconti appunto per far capire in ogni caso il valore della perdonanza i valori della perdonanza la musica è un'arte straordinaria che ci fa stare bene un'arte che accomuna, un'arte che rappresenta il bello a mio avviso e il bello oggi del bello ne abbiamo bisogno tutti quanti per cui ecco la musica a servizio lo spettacolo, gli artisti a servizio produzioni fatte qui io costruisco dei piccoli racconti e poi chiedo agli artisti di partecipare quest'anno ne facciamo tre di produzioni è una cosa straordinaria adesso l'orchestra è in pausa ma con i ragazzi del conservatorio con le maestranze locali con tutti gli allievi a me piace la masterclass il lavorare insieme l'incontro tra gli artisti e l'Aquila appunto la cosa molto bella è stata pure che l'Aquila dopo il momento durissimo del covid che non è ancora finito ci ha scommesso un po' sull'arte, sulla cultura della musica e mentre in altre parti d'Italia anche l'anno scorso si annullavano eventi l'Aquila ha deciso di farlo comunque è stata premiata gli artisti ormai conoscono questa città conoscono le location bellissime poi ne rimangono affascinati quindi è una piccola vittoria una piccola grande vittoria sì è una sfida che stiamo appunto non è una sfida ma è un'intenzione è quella che intanto con la cultura con l'arte possiamo ricucire degli strappi che abbiamo avuto l'Aquila inutile dire l'Aquila è una città che ha sofferto che si rialza e lo ha fatto più volte adesso è chiamato tutto il mondo a rialzarsi per cui diciamo una ripartenza continua guardiamo al futuro stiamo attenti e sempre tenendo conto che la salute l'incolumità delle persone è la prima cosa per cui noi ci stiamo attenti ci siamo la cultura c'è sempre va avanti controlliamo tutto e seguiamo le regole le regole appunto che lo Stato che questo Stato di Covid adesso ci impone grazie a tutti Grazie per la visione! Grazie a tutti!